L'appuntamento per venerdì 22 ottobre alle 14 per il nuovo corso di BLSD, condotto da Carmine Camicia per formare nuovi laici che possano utilizzare il defibrillatore in caso di necessità. Il corso consegnerà a chi partecipa gli attestati di partecipazione, dando così inizio all'avventura di fare gli angeli del cuore, di essere i protagonisti in caso di necessità e di poter salvare una vita umana. Il corso insegnerà come viene utilizzato un defibrillatore, quelle che sono le operazioni da svolgere, con riferimento sia all'adulto che al bambino che al neonato. E in più tutte le manovre in caso di costruzioni alimentari da poter svolgere, sempre per creare laici che sappiano salvare una vita. Quelle che vedete sono le immagini relative all'ultimo corso di BLSD che è stato svolto alla palestra di Montegrino. L'appuntamento è venerdì 22 ottobre alle 14 presso il Laboratorio PhysioCam di Ellera di Corciano. Carmine Camicia sarà l'istruttore di questo corso per preparare, come abbiamo detto, i nuovi laici. Particolare attenzione è rivolta agli istruttori di padel che saranno protagonisti della giornata. Ma il corso è aperto a tutti, a coloro che vogliono partecipare e a coloro che vogliono avere un riconoscimento per essere gli angeli del cuore. ...con due direlli. Uno, due, tre, quattro e cinque. Ok? Quindi, se il bambino...